Ciao amici, vi presento per la prima volta in Italia la mia buonissima carne e la la prima volta in Italia, la mia buonissima carne e la la prima volta in Italia nella fine del 2015 all'inizio della soglia nel 2016, è incredibile, guardate voi stessi prima di tutto che ci tengo, carte, mamadissime, nessun ordine, nessun segno mamadissime, ok? non duplicate, niente, niente lo spettatore prenderà una carta che vuole delibera che il mazzo non ha segnali niente particolare, quello che vuole vuoi se vuole prendere questa, ok? libera, non cattavola, no si chiude tutto, non ci prende niente e così la carta non scelta, libera, ma è bella e poi, dopo di che lo spettatore stesso inserisce la carta dove a lui può metterla qua, 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 non importa può cambiare anche l'ultimo, non c'entra niente infatti che la carta sia sempre in mezzo al mazzo si prende il mazzo, lo attimo tra le mie mani e ora, uno, 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 uno ecco qua, sceso allora si vedeva, non farà niente si vedeva, lo vedete? è 7 e 4, 10 7 e 4, 10 cosa faccio io? apro le carte, ok? potrebbe essere questa, non lo so potrebbe essere anche questa potrebbe essere questa forse questa, dai, no allora l'ultima vabbè, diciamo che così è tutto il nostro massimo chiudiamo le carte, senza nessuna manipolazione niente e concentriamoci nell'impossibile nell'impossibile guardiamo la decina carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la decina carta toglie ragazzi, una delle più belle carte che ho mai creato in vendita